Ciao! Io mi chiamo Alana e vengo dalle isole Hawaii. Si trovano nel bel mezzo dell'oceano Pacifico. Quindi sai anche come si usa l'ula-hop? Ma certo! È una delle mie passioni. Guardate! Sei veramente gattastica, Alana! Vorrei tanto giocarci anch'io, come fai tu! Siete tutti pronti? Via! Sì! Bravi! Se solo riuscissi ad accendere l'irrigatore, magari potrei farlo uscire da quella coppa! Wow! Sembra un vero vulcano, proprio come quelli delle Hawaii! O se in questo modo riesco ad aumentare la sua potenza! Oh, no! Devo evitare questa pioggia spaziale! Cosmo, il gatto astronauta è eliminato! Ok! Sono... sono stanchissimo! Anche Ranch ha eliminato! Direi che questa gara è davvero più difficile del previsto! Wow! Sei bravissima, Più! Più è ancora in gara! Invece a polpetta è caduto il suo ulop! Improvvisamente ho proprio fame di... ...spaghetti e polpette! Vuol dire... ...pericolo! Oh! Devo assolutamente spegnere l'irrigatore! No! Più è eliminata! È il momento di fare qualcosa! Buffy Kids, ho io la soluzione giusta! Una gara mette sempre appetito! Per questo ho portato con me le gustose tagliatelle di Nonna Pino! Forse è meglio allontanarsi! Con tutta quell'acqua il vulcano rischia di esplodere! Mi è appena venuta in mente una buffa idea! Dobbiamo chiudere tutti gli oblò delle lavatrici! Giusto, polpetta! In questo modo l'acqua potrà uscire soltanto verso l'alto! Il mio irrigate... Cioè, volevo dire, il trofeo! Devo riuscire a salvarlo! Oh, che peccato! Peppi è eliminata! Questo vuol dire... Questo vuol dire... Questo vuol dire... Che è proprio Boss il vincitore della gara di All Up! Però tutti voi siete stati davvero... Gattastici! Sei stato gattastico! Grazie a tutti! Io direi che stavolta me la sono meritata! Grazie! Grazie a tutti voi! Iscriviti al canale!